C'è partito? Sì Sono qui al Festival di Roma per presentare come organizzatore di Fare Cinema e del Bobbio Film Festival Frammenti che è un breve cortometraggio per la regia del grande maestro Franco Piavoli veramente un grande maestro del cinema italiano, uno che i maestri del cinema italiano considerano un loro maestro che noi abbiamo convolto a Fare Cinema, che è la manifestazione che portiamo avanti da 16 anni io insieme a mio padre e a tutta la nostra famiglia per fare questo corso di cinema con quasi 20 studenti selezionati attraverso un bando di concorso pubblico questa manifestazione si svolge a luglio tutti gli anni e da questa manifestazione sono fuori tanti lavori interessanti uno tra tutti Sorelle Mai, un film che è uscito nelle sale circa due anni fa questo lavoro che presentiamo quest'anno per la regia di Franco Piavoli si intitola Frammenti ed è proprio frammenti dell'esperienza vissuta a Bobbio con gli studenti e sono perfettamente coerenti con il modo e con lo stile del cinema di Piavoli che è considerato il maestro del cinema della natura per cui è uno stile in cui si lascia che le cose accadano e si cerca in qualche maniera di metterci mano il meno possibile si crea una situazione e poi si lascia che quella situazione viva e questa vita la si filma e la si cerca di impressionare ovviamente adesso su un piccolo supporto digitale Franco era assente dalla ribalta da molti anni non è mai stato uno che l'ha cercata la ribalta ma noi siamo estremamente felici di averlo potuto riportare in quello che è un po' l'ambito del grande cinema ma almeno del cinema visibile perché lui per modestia, per carattere, per spirito è sempre stato uno che ha preferito fare le sue cose a casa sua, con la sua gente e possibilmente meno gente possibile per cui per noi di fare cinema e del Bobbio Film Festival è veramente un privilegio e un onore aver potuto portare qua al Festival di Roma frammenti di Franco Piavoli grazie